Qual è il tuo sogno? Io maestra ho sognato di essere lontano, in una grande scatola bianca, senza niente. Poi all'improvviso vedo comparire di fianco a me un mostro grande e lungo, che piano piano si avvicina a me, come se volesse farmi del male. Mi chiama per nome, come se mi conoscesse già da tanto, e mi dice di guardarlo negli occhi e di guardarlo ancora. Io dalla paura resto immobile, poi quando cerca di prendermi io mi sveglio e non riesco più ad addormentarmi. Ascoltami, non ti devi preoccupare, i mostri non esistono, non devi aver paura, hai capito? Biameno 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 Cagliare Biameno Grazie a tutti.